Ciao, mi chiamo Baldo Federica, ho 27 anni e abito a Gorla Minora, un piccolo paesino in provincia di Varese. Nella vita sono una ballerina e insegnante di danza moderna. Ad oggi il mio sogno nel cassetto, entrando nel mondo degli shooting fotografici, è appunto fare la modella. Grazie a tutti.